Melillo spinge il Francavilla Insigni al secondo posto del girone H di Serie D e la rete dell'Argentino nel recupero di primo tempo a regalare i suoi tre punti che portano al sorpasso al Bitonto. Nulla da fare per il team Altamura, costretto a cedere il passo ai Lucani per una zero, partita comunque equilibrata per larghi tratti. L'inizio è a ritmi alti, passano due minuti e Melillo calcia dall'interno dell'aria, tiro ribattuto in corner per i pugliesi e Massari a rispondere sfiorando il palo da fuori. Al sesto corner velenoso di Melillo, spina lontana innescando il contropiede del team Altamura, Teresco supera di fisico, Nolè poi davanti al portiere calcia incredibilmente alto. Che errore per l'attaccante al decimo, primo cambio per Ragno, Ferrante costretto ad uscire al suo posto, Nicolao. Dodicesimo Petrucetti, prova il tiro che diventa quasi un passaggio per Nolè ma il 10 non ci arriva. Al ventesimo riecco Nolè, conclusione ambiziosa, palla a lato. Nel finale ancora il capitano dei Lucani, prova il diagonale, sfera sul fondo, poi nel recupero calcia da fuori, tiro ribattuto. Melillo è più lesto di tutti e trova l'incrocio giusto mettendo la palla in porta, Francavilla in sinni avanti 1-0, Altamura costretto ad inseguire all'intervallo. Ripresa ancora su buoni ritmi, Nolè calcia ancora da fuori, questa volta manca di poco l'incrocio. Team Altamura che risponde con Massari, Prisco è reattivo e salva il risultato. Pugliesi che non ci stanno, Clemente dal limite chiama il portiere Lucano ad un'altra parata. Partita che si complica per i padroni di casa quando Nicolao viene espulso per un fallo a centrocampo su Cancelliere. Lucani in 10 uomini, al trentasettesimo Lucchese prova ad approfittarne, conclusione da lontano, Prisco coi pugni. Al quarantatresimo si ristabilisce la parità numerica, Enrico commette fallo, secondo giallo ed espulsione. Al quarantaseiesimo Prisco, ancora protagonista, recupera una palla vagante in aria prima dell'arrivo di Molinaro. Sul ribaltamento Croce potrebbe chiudere i conti a porta vuota, ma Cancelliere recupera e anticipa l'attaccante. Finisce così 1-0, Team Altamura che mercoledì tornerà in campo per il recupero col Nardò in terra salentina. Francavilla domenica prossima di Scena Nola.